Eccoci di nuovo allora. Arriviamo a una delle lezio magistralis di questi due giorni e mezzo. Questa volta ospite con noi è il professor Mauro Ceruti. Mauro Ceruti è docente di filosofia e diciamo che per molta parte di questo paese è certamente riconosciuto come il coordinatore, il promotore, l'anima di un libro che ha segnato qualche generazione e certamente il dibattito pubblico sulla complessità. Forse anche questo è una delle ragioni per cui Mauro Ceruti è tra le persone più care che Edgar Morin. E devo dirvi leggendo ora il risvolto di copertina del prossimo libro del professor Ceruti che si titola Umanizzare la modernità, un modo nuovo di pensare il futuro. Nella fascetta che accompagna il libro Edgar Morin scrive virgolettato Avrei voluto scrivere io questo libro. Credo che sia uno dei commenti e delle critiche migliori che qualunque autore possa immaginare di avere alla propria fatica. Invito quindi ora sul palco il professor Ceruti. Ci siamo detti che non c'è nessun approfondimento per questo tipo di incontri perché la profondità, la complessità, la ricchezza e l'interesse dell'intervento chiedono solamente di lasciare la parola ai loro protagonisti. Il nostro primo incontro con il professor Ceruti. Grazie. Devo anche invitarvi, questo è l'ultimo incontro della mattina, vi ringrazio chi abbasserà la voce perché la corte è tale per cui anche una conversazione sotto le volte rimanda all'interno della corte il riverbero del suono. Ringrazio tutti. Professore. Grazie. Grazie dottor Quaglia per questa presentazione. Io dico subito, sarò abbastanza breve, ho una posizione difficile, alla fine di una mattinata così lunga, così intensa, faccio fatica anch'io semplicemente a stare seduto ad ascoltare. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, io ho preparato una, l'ha definita il dottor Quaglia, una lexio magistralis, una relazione comunque, l'ho scritta anche, l'avrei seguita, non la terrò, non terrò questa relazione perché voglio rivolgermi brevemente soprattutto ai ragazzi. Poi c'è, trovo qui la stessa situazione che ho trovato in Parlamento, quando uno parla nessuno ascolta e soprattutto molti parlano e questo non è molto educativo. Mi ricordo quando ero senatore, è stata una piccola parentesi, l'allora ministra Gelmini, teneva una relazione proponendo, come viene riproposto oggi, che il voto in condotta basso avrebbe potuto giustificare la bocciatura. E mentre parlava, nell'Oggione c'erano delle classi come voi che ascoltavano, era un'ora di educazione civica, entrare, a me emozionava molto, sono un professore, non un politico di professione, emozionava molto entrare tutte le mattine nel Senato della Repubblica per cinque anni. E là c'erano i ragazzi, come si può fare? Anche voi potete chiederlo, è un'esperienza molto bella. E però mentre il ministro parlava, e appunto diceva che in aula bisogna essere in aula scolastica, severi, perché il voto in condotta, se uno parla, anche se ha otto o dieci in tutte le materie, viene bocciato, tutti i senatori non ascoltavano. Chi leggeva il giornale, chi parlava, chi guardava il tablet, chi giocava. Allora io nella mia ingenuità da neofita ho chiesto la parola, come si può, dico, ma cosa possono pensare questi ragazzi? Ha ragione, professore. Gli scappò il presidente dell'aula chiamandomi professore, perché era il mio mestiere. Forse mi mancava qualcosa per essere senatore, forse questo stesso ragionamento, poi ho imparato che era normale. Dopo cinque minuti di silenzio si è ricominciato così. Non va bene, dobbiamo essere radicali davvero in queste cose, chiedere serietà soprattutto a noi stessi. Allora, scusate perché fa molto caldo qui. Io non terrò la lezione e sarò breve, però voglio rivolgermi esclusivamente, soprattutto ai ragazzi che sono qui a voi. Io non so di che scuole siete, per interposta persona ovviamente a tutti. E' bellissimo il titolo che la presidente Furfaro ha dato a queste giornate. Giornate di educazione ambientale. Dice, ma cosa c'è di bellissimo? L'acronimo è GEA. GEA. E GEA, nella lingua greca, vuol dire terra. Vuol dire terra. Allora, il primo insegnamento che viene da questo incontro è proprio questo. Noi viviamo, abitiamo, parliamo una lingua bellissima. Con delle etimologie, le parole, parliamo semplice, le parole derivano dal latino, le parole dell'italiano e dal greco. Già soltanto dare senso a quello che diciamo a scuola, cercando di comprendere l'etimologia, ci dà quel rispetto delle parole che è importante per rispettare noi stessi e il mondo è quello che diciamo, GEA. Allora, io brevemente, intanto che arrivava l'ora del mio discorsetto, appunto, ho messo via la relazione che lascerò alla presidente come regalo di questo giorno, ma mi sono segnato sei parole, sei parole di cui vi voglio parlare brevemente per suscitare una riflessione fra di noi. E la parola, prima parola, è proprio GEA, GEA, terra, terra. Per noi oggi è naturale parlare della terra. Abitiamo la terra, la terra in pericolo, la nostra madre terra. È normale parlare terra, ma non è stato normale per il 99% degli uomini e delle donne nella storia dell'umanità. L'uomo vive su questa terra più o meno da 200.000 anni, più o meno, c'è chi dice un po' di più, voglio dire un numero grande. E parliamo di terra, cioè sappiamo che c'è la terra soltanto da 400-500 anni. Da 500 anni, ecco, diamo i numeri precisi, più di quanto non siano. Cioè, fino al 1492, una data importante che voi fin dalle scuole elementari avete pensato e studiato, la data in cui Cristoforo Colombo si recita ancora oggi a scuola, scopre l'America. Cristoforo Colombo è la scoperta dell'America, ma altri uomini e donne l'avevano scoperta migliaia di anni prima, e infatti trovano uomini e donne nell'isola di Spagnola, la prima e poi, e poi nei continenti americani. ma la scoperta dell'America da parte degli europei è stata la scoperta della terra per tutti gli esseri umani del pianeta. In pochi anni, grazie alle navigazioni degli europei, tutti gli uomini e le donne, tutte le culture, tutti i popoli del pianeta scoprono che il mondo è molto più ampio. il mappamondo del 1492, per gli europei, cominciava a Gibilterra e finiva nelle steppe degli Urali. Dopo pochi anni viene scritto, disegnato un altro mappamondo che per la prima volta disegna tutto il globo, e dopo una trentina d'anni, Magellano, quindi pochissimi giorni, fa la circunnavigazione della terra e tutti gli esseri umani, nel bene e nel male, sanno che esiste il mondo, la terra, il pianeta terra, quello che per noi oggi sembra normale e che ci inquieta. Ma soprattutto, vedete, la scoperta della terra è stata la scoperta della diversità, reciproca per tutti, tutti gli esseri umani incontrandosi scoprono tratti somatici, lingue, culture, dei, virus, inauditi, mai concepiti. Insomma, 500 anni fa, nell'ambito di 200.000 anni, sono una svolta radicale, è come se rinascesse l'umanità in un'altra forma, in una forma non locale, ma planetaria, è la scoperta della terra, è la scoperta della diversità, quella che noi oggi chiamiamo globalizzazione, pensando che la globalizzazione è nata nel 1989, dopo la fine della guerra fredda, dopo la nascita dei computer, delle tecnologie, della informazione. E che cosa accade in questi 500 anni molto rapidamente? Nasce la scienza, come la intendiamo oggi, la tecnologia, come la intendiamo oggi, l'industria, come la intendiamo oggi, il progresso, come lo intendiamo oggi. Si comincia a pensare che è aperta una strada ineluttabile, mai fermabile, di progresso, scienza, tecnologia, giustizia sociale, uguaglianza, cura della salute, progrediranno a braccetto, insieme, inevitabilmente. Il progresso è garantito. Oggi questo è entrato in crisi. Dobbiamo per oggi sviluppare una coscienza planetaria. Si è fatta strada, ma è lì, latente, non abbiamo la coscienza di essere abitanti di un pianeta. Sta emergendo adesso, ma non in positivo, proprio per il fatto che il nostro ambiente, GEA, la giornata dell'educazione ambientale, ebbè si ribella contro di noi, si rivolta contro di noi. Poi vedremo in una battuta finale, non per mancanza di progresso, ma proprio a causa di quello che abbiamo chiamato progresso, a causa dell'impatto delle grandi scoperte tecnologiche, scientifiche, degli sviluppi economici. Allora, la seconda parola è ecologia, ecosistema, ecologia. Ecco, è giusto GEA, giornata educazione ambientale, però la parola che io chiedo che dovremmo sostituire ad ambiente è ecosistema. L'ambiente ci fa troppo pensare, come dire, ad una scena del teatro, ad una scatola in cui mettiamo noi stessi, e noi facciamo più o meno bene, più o meno danni. No, ecosistema, ecologia, beh, qui un'altra bella cosa che ci viene dal greco, ma non per fare il professore, ma per fare l'italiano. Ecologia vuol dire, eco vuol dire oikos in greco, vuol dire casa, logia vuol dire discorso, scienza, l'ecologia è la scienza della nostra casa, è il discorso che noi facciamo sulla nostra casa, ecosistema è il nostro ambiente, che non è statico, non è uno scatolone per quanto meraviglioso in cui noi siamo collocati, siamo noi anche il nostro stesso ambiente, lo trasformiamo continuamente, non ci siamo noi e la natura che è l'ambiente, noi siamo natura, noi siamo natura, dobbiamo imparare quindi a pensare in modo nuovo la terra e l'ambiente come ecosistema, siamo obbligati oggi a farlo, non è soltanto un dovere essere morale, politico, perché? Terza parola, crisi, noi veniamo da tre anni terribili, di crisi, ne cito soltanto tre, la crisi del clima, che è quella di cui si parla meno che è quella più spaventosa, poco tempo fa facevo un dialogo fra esperti con il presidente dei meteorologi italiani, il professor Luca Mercalli, lui diceva guardate se non c'è un cambiamento radicale, non fra mille anni, non fra cento anni, non fra un milione di anni, fra dieci anni, l'umanità va a sbattere, queste parole da scienziato usava, andiamo tutti a sbattere, fra dieci anni, non stiamo andando a prendere queste decisioni, la seconda crisi è la crisi della pandemia, quella si è entrata nella nostra vita quotidiana, un piccolo virus partito da una piccola regione della Cina, Wuhan, io penso a tutti noi sconosciuta, in pochi giorni ha invaso la terra e ha trasformato non solo la nostra salute, lo diceva bene prima Marco Rossidoria, ha trasformato la nostra società, la nostra economia, i nostri comportamenti e ci ha rivelato che cosa? Ci ha rivelato che sulla nostra terra, nel nostro ecosistema, le prime due parole, la crisi della salute introdotta da un virus, dalla planetarizzazione rapidissima di un virus, ci ha rivelato che tutto è connesso, cioè ci ha rivelato che nessuno si salva da solo, ci ha rivelato allora, ecco la parola chiave che la Presidente Furfaro mi ha chiesto di chiosare, di introdurre oggi, complessità, oggi tante volte si parla, soprattutto i politici per non prendere decisioni, la situazione complessa la considereremo, no, complessità è la parola, il concetto chiave di tutte le scienze contemporanee ed è il concetto chiave per considerare la condizione umana contemporanea, chi siamo, dove andiamo, cosa possiamo fare oggi, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo educare oggi, e anche qui la nostra bella lingua ci viene in soccorso, questa volta attraverso il latino complesso, deriva dal verbo latino cum plectere, plectere vuol dire intrecciare, cum insieme, nel tempo tante volte tante cose, fino a che da questo intreccio continuo emerge una unità, come il nostro organismo, deriva dal complettere continuo di milioni e di miliardi di cellule, milioni muoiono, milioni rinascono, dal complettere, dall'intrecciarsi di tutti i nostri organi, quando finisce il cumplectere, l'intrecciare insieme, c'è la morte, non c'è più la complessità, la complessità è come una danza che produce la vita, che sia la vita biologica, la vita sociale, la vita sentimentale, il cumplectere di una relazione, di un'amicizia, il cumplectere di una relazione sociale, il cumplectere dell'amore, il cumplectere dei miliardi di neuroni del nostro cervello che fa emergere la nostra identità, il nostro sistema immunitario, la nostra cultura e badate che complesso si confonde sempre con complicato, se c'è un opposto di complesso non è semplice, che infatti è la stessa etimologia, semmelplectere, intrecciare una volta sola ma intrecciare, complicato è qualcosa che deriva dalla somma di tante parti, non dall'intreccio nel tempo che produce vita, come una casa enorme fatta con il lego di tanti, non c'è nulla di complesso, complicatissimo, un jambo, un aereo, però se si guasta lo possiamo smontare e rimontare, nella complessità questo non accade. E poi la guerra, la guerra ci rivela la complessità che c'è che nel nostro mondo è tutto connesso, tra virgolette noi non vi appaia Iocini con una piccola guerra presuntamente localizzata in Ucraina ha scombinato come il virus la vita di tutto il mondo. I budget, i bilanci degli stati sono sempre più sulle armi, le economie vengono destabilizzate da questo ritorno della guerra, si dice non è una guerra mondiale, gli effetti di questa guerra locale sono mondiali, sono mondiali, quindi la crisi ci rivela la natura della nostra terra e del nostro sistema, cioè complessa, tutto è connesso, tutto è connesso. Quarta parola, la scuola, l'educazione, la scuola. È adeguata la nostra scuola a educare, a questa nuova realtà della condizione umana? No, no, diceva prima Marco ancora, no, anzi, rema contro, rema contro, quando si parla ancora di queste cose, no, non si sta ad ascoltare, i ragazzi giustamente guardano i telefonini come fanno adesso, i politici dicono, sì, ma professor Ceruti non faccia il filosofo, dobbiamo essere concreti e semplificare le cose e intanto i problemi aumentano. Ci sono due ostacoli gravissimi che riguardano la scuola e la cultura che sono di ostacolo oggi alla formulazione dei problemi e questo deve fare la scuola, aiutarci a formulare i problemi prima che di risolverli, ad affrontarli, a raccontarli e poi fuori dalla scuola chi è andato a scuola avendo imparato bene questa grammatica del pensare avendo imparato bene questi occhiali da mettere per guardare il mondo a seconda di cosa facciamo comunque siamo tutti cittadini partecipiamo no? Due grandi ostacoli uno è quello classico tradizionale l'ignoranza e qui la fondazione Focus si occupa anche e soprattutto di questo la povertà educativa la dispersione scolastica c'è un'ignoranza di ritorno anche un analfabetismo di ritorno straordinario ricordo al tempo Marco in cui scrivevo le indicazioni di cui poi ti sei occupato tu cioè i programmi scolastici ho lavorato molto con il professor Tullio De Mauro che è stato anche ministro dell'educazione ma il più grande studioso del linguista italiano non c'è più e già allora partecipai a una ricerca e mi diceva guarda Mauro da questa ricerca si evince che c'è stata tanta scolarizzazione in questi ultimi decenni in Italia dall'analfabetismo tradizionale cioè non sapere né leggere né scrivere una grande scolarizzazione eppure dalle nostre ricerche l'ottanta per cento delle persone adulte italiane non sanno leggere e comprendere un normale articolo di cronaca scritto su un giornale ne traggono delle conseguenze strampalate un normale articolo da giornale e oggi questa ricerca che è stata rifatta è stata ribadita come possiamo essere cittadini uscendo dalla nostra scuola consapevoli di una società democratica e giudicare eventualmente tramite referendum di problemi di cui noi non possiamo comprendere nulla ma non solo perché non siamo esperti di una questione specialistica ma perché non sappiamo mettere insieme la destra e la sinistra con il senso politico non sappiamo lavarci le mani non sappiamo formulare dei problemi semplici c'è un secondo però ostacolo che oggi è grave tanto questo e a mio avviso ancora più grave dell'ignoranza perché quando io non so una cosa si sa come la posso imparare o come la posso insegnare chi sa il secondo ostacolo alla conoscenza alla formulazione dei problemi è la conoscenza per come oggi è prodotta organizzata e trasmessa la conoscenza che ancora oggi è prodotta nei centri di ricerca e trasmessa nelle istituzioni educative soprattutto a scuola è una conoscenza frammentata c'è un insegnante di storia un altro insegnante che insegna la geografia un altro insegnante che insegna le scienze naturali un insegnante che storia la storia della letteratura e eventualmente un altro la filosofia diversi mentre si studia la storia che so del medioevale si studia l'arte dell'ottocento mentre si studia l'arte dell'ottocento si studia la fisica come se fosse venuta fuori così dalla dalla testa del professor Parisi che si è messo lì a tavolino cioè che non abbia mentre oggi noi sappiamo dalla scienza stessa e dalle crisi di cui ho detto che la pandemia adesso qui ci sono i ragazzi che ormai sono gli insegnanti immagino mi dicono anche qualche centinaio in streaming la pandemia con l'insegnamento a distanza sarebbe stata un'opportunità straordinaria di una grande riforma della scuola e dell'educazione e di una grande nuova pedagogia collettiva le uniche cose che ho sentito dire da ministri sottoposti a ministri organizzazioni di insegnanti non illuditevi i programmi li dobbiamo comunque finire non illuditevi le interrogazioni le facciamo stesse i voti li diamo lo stesso e si promuove ma che discorsi sono ma dove vivete i problemi degli entrati nella vita quotidiana nel tempo della pandemia erano singolarmente ogni giorno si potevano assumere per dire ma la pandemia è un problema geografico che ci fa capire che la geografia non è soltanto i monti le montagne le capitali ma è la storia con la parola difficile dell'antropizzazione della terra cioè di come l'uomo trasforma la terra come è possibile che dalla regione del Wuhan arrivi il virus eccetera in ambienti così diversi è una questione di storia e oltretutto anche i virus hanno la storia hanno una storia molto più antica di quella di noi esseri umani e si sono trasformati e la storia umana è la storia della coabitazione con virus gli europei hanno sterminato i nativi americani non solo con le armi ma portando dei virus che non hanno incontrato le difese immunitarie dei nativi americani mentre gli europei avevano più difese immunitarie perché avevano l'abitudine e la convivenza con una domesticazione animale molto più articolata la civiltà inca estremamente sviluppata è morta in poche settimane a causa della più straordinaria catastrofe umanitaria che ha rivelato per la prima volta la terra il fatto che l'umanità è una molteplice e che si poneva il compito di costruirla questa civiltà della terra e questa civiltà dell'umanità dell'umanità planetaria la frammentazione dei saperi l'iperspecializzazione se è stata fonte di progresso nel novecento oggi è diventato uno straordinario boomerang un boomerang come la medicina già Ivan Illich qualche tempo fa disseva ormai più dell'ottanta per cento delle malattie che contraiamo sono iatrogene altra iatros in greco è il medico sono generate come effetti collaterali delle terapie messe in atto dal medico specialista che ci cura della malattia per cui ci rivolgiamo a lui lui guarda solo questo frammento senza tenere conto degli effetti sistemici complessi completere dovuti all'intreccio all'unità di tutto l'organismo delle terapie che mette in atto no? e anche qui dunque quindi due ostacoli l'ignoranza ma la conoscenza la conoscenza fonte di progresso fonte di illuminazione oggi sta diventando attraverso i suoi progressi iper specialistici anche fonte di cecità nel momento in cui una conoscenza ci illumina su un frammento nell'atto stesso in cui ci illumina su di un oggetto ci acceca sul contesto in cui questo oggetto è inserito vitalmente vitalmente estratto da quel contesto quell'oggetto non c'è quindi è una conoscenza erronea ma con degli effetti anche catastrofici quinta e penultima parola fragilità qui siamo nei quartieri spagnoli prima in una delle interviste che mi sono state fatte gentilmente per presentare qualche mia idea dalle televisioni e ha detto ma come si può fare una riforma dell'educazione che valga per tutti ma proprio a partire dal quartiere più fragile di Napoli forse d'Italia è proprio lì i quartieri spagnoli e la fondazione sono una metafora del pianeta oggi oggi sono una metafora oggi la speranza di salvezza in qualunque campo nasce non dalla potenza dalla forza come ci siamo illusi in 300 anni di modernità che ha seguito l'indicazione di un grande filosofo cartesio l'uomo è maître possessor della natura ma è padrone possessore della natura come un ambiente staccato da sfruttare a proprio bene questo sfruttamento sarebbe alla base del progresso umano no è il contrario e la fragilità che si è rivelata dalle crisi ci rivela il fatto che noi dobbiamo educarci alla complessità al completere al capire come tutto si tiene con tutto e ciò produce una fragilità comune ed è questa fragilità comune che può nascere una nuova prospettiva un nuovo modo di guardare a noi stessi a noi stessi e e alle cose ed è la fragilità oggi che ci unisce neanche la potenza del colonialismo può più unirci il colonialismo non è più all'ordine del giorno il terzo mondo di cui si parlava quando io ero un ragazzo che mi ha motivato il mio impulso volontario nel fare tutto dall'obiezione di coscienza in su o in giù non c'è più quale giovane usa oggi la parola terzo mondo anzi gli attori globali che oggi sono molto più potenti dell'Europa che è stata la padrona del mondo negli ultimi 500 anni erano terzo mondo la fragilità unisce ed è dalla fragilità che può emergere un nuovo disegno e anche qui mi si dice ma professore è utopia non faccia della filosofia comanderà il mondo chi vince la guerra dobbiamo semmai fare la guerra contro i prepotenti di qualunque tipo forse pure il clima combatterlo il clima come mi viene in mente più Don Quixote che gli scienziati e Sancio Panza forse anche più di Don Quixote e allora e allora dalla fragilità viene fuori un'idea che io oggi voglio qui consegnarvi la più grande potremmo dire scoperta non lo so invenzione il più grande avanzamento scientifico che caratterizza il progresso della scienza moderna da Galileo a oggi forse è stato la scoperta del mondo subatomico con quel gruppo di straordinari scienziati forse il gruppo più geniale che sia mai esistito sulla terra Heisenberg Planck lo stesso Einstein poi c'è entrato Bohr dei geni assoluti e hanno scoperto che che l'atomo non è atomo come l'atomo non è atomo e qui ancora la nostra bella lingua sapete che atomo vuole dire a in greco vuole dire non tomo vuol dire divisibile atomo vuol dire non divisibile si è sempre pensato che l'universo fosse un enorme lego fatto da mattoncini indivisibili sommati fra di loro in modi diversi vengono fuori la luna le cell le stelle eventualmente le galassie il mio cervello il bacio che do a mia moglie tutto tutto è fatto dalla combinazione dalla combinazione diversa di questi atomi indivisibili e lì invece si scopre che l'atomo è come è divisibile c'ha dentro una complessità cioè un intreccio di storie importante grande profondo quanto l'infinito universo e per di più tutte le storie che accadono nel mondo subatomico sono molto diverse da quelle che noi siamo abituati a vedere nel nostro universo eppure si tengono insieme fra di loro questo vertice questo apice della storia del progresso umano attraverso la scienza negli anni 40 che accade negli anni 20 e 30 del novecento negli anni 40 porta alla costruzione della prima bomba atomica e lì si scopre e all'utilizzo la seconda guerra mondiale vedete allora come si intrecciano la storia la fisica la matematica la filosofia perché è la filosofia che poi ha saputo con tutti anche i tuoi festival interpretare le grandi scoperte scientifiche le letterature che hanno divulgato i sentimenti umani da John Donne in po' il grande poeta che dopo che c'è la rivoluzione nel primo del seicento copernicana in cui si scopre con copernico che la terra non è ferma immobile all'interno di un mondo chiuso e attorno alla terra ruota sempre a rendere omaggio al suo abitatore l'essere umano il sole no è il sole che sta lì in periferia e la terra gli gira intorno e lì è una grande deflagrazione anche lì nel seicento altro che età della ragione filosofia scienza politica la scuola tutte insieme John Donne tutto è perduto scrive potrebbe essere un poeta un filosofo del nostro tempo tutto è perduto non c'è più nessuna coerenza non c'è più terra e non c'è più sole perché che terra è una terra a cui il sole non rende omaggio c'è un dato simbolico nella scienza e infatti molti scienziati che resistono alla rivoluzione copernicana vi resistono dal punto di vista letterario ma non che la scienza si apriva anche chi si converte alla nuova scienza è perché finalmente anche sviluppa una nuova letteratura di se stesso e del mondo un nuovo immaginario con il grande romanzo che ha saputo cogliere molto più che la filosofia le grandi rivoluzioni scientifiche ma si costruisce la stessa cosa la bomba atomica viene utilizzata la seconda guerra mondiale finisce con Hiroshima Hiroshima gli americani utilizzano disastro beh c'è il film bellissimo Oppenheimer date a vederlo Oppenheimer serve molto di più che un corso intero di filosofia di scienza di sociologia andate a vederlo e da lì poi si trova la molla per dire ma che bel senso mi possono dare tutte queste materie scolastiche che anche questo brutto materie no? materie invece che chiavi di studio di lettura di curiosità materie scolastiche come se fossero lì cristallizzate ferme da sempre per sempre e infatti sono lì ferme sempre da sempre e lì che cosa si capisce? la dico in una battuta ma varrebbe la pena di ricostruire la GEA di oggi attraverso questo e lì c'è una svolta nella storia di 200.000 anni dell'umanità l'umanità diventa in modo sorprendente imprevisto nuovo inedito una specie biologica capace di suicidio non era mai stato così adesso noi esseri umani abbiamo a disposizione la possibilità perché? perché l'utilizzo noi sappiamo ormai da anni l'utilizzo simultaneo di un certo numero di armi nucleari non solo provoca delle morti dolorose delle ferite dolorose all'umanità ma trasforma le condizioni della terra della biosfera la terra Gaia è un organismo vivente è una pellicola di vita che circonda la GEA e trasforma le condizioni che rendono sostenibile il futuro stesso dell'umanità cioè producono quello che in occasioni precedenti milioni di anni fa è stato prodotto per esempio 65 milioni di anni fa pare che siano cadute sulla terra alcuni asteroidi che hanno provocato un tale caos climatico di pulviscoli sulla terra che i dominatori della terra d'allora i grandi rettili i dinosauri con cui giocano i nostri bambini oggi io non sapevo neanche che fossero quando avevo quattro anni una volta un mio nipotino di tre anni quando gli ho regolato guarda il dinosauro lui mi ha detto ma zio non è un dinosauro è un brontosauro cioè da dire cose i bambini imparano malgrado la scuola e fuori e fuori della scuola no e allora lì si è capito che lo strumento più tradizionale a cui siamo sempre stati educati più raffinato nella storia dell'umanità in tutti i campi lo strumento del gioco vinco io perdi tu vinci tu perdo io la guerra ma anche il rapporto fra i generi uomo donna no il rapporto uomo natura vinco io contro la natura o è la natura che vince come me come se fossimo separati come se noi non fossimo natura ecco questo cosa provoca e provoca questa straordinaria nuova condizione umana che ci impone ad essere utopisti e ci impone l'educazione ad un nuovo modo di pensare non più fondato sul potere della forza ma sull'unione che ci dà la stessa fragilità noi o sopravviveremo tutti insieme o moriremo tutti insieme un grande filosofo del novecento ha detto io la riprendo sempre questa sua affermazione l'essere umano del futuro o sarà uomo di pace o non sarà perché la prossima guerra condotta fino alle estreme conseguenze sarà la guerra in cui muore tutta l'umanità e noi stiamo vivendo oggi con una leggerezza anti educativa il tempo della guerra il tempo della pandemia il tempo del clima sempre parte con un'incoscienza totale e con una miopia che ci fa giudicare quello che facciamo solo da qui a domani mattina ma senza capire che o cambieremo o periremo come diceva un altro grande e questo è un compito educativo un compito improbabile difficile perché cambiare è difficile mentre stiamo guidando una Ferrari in corsa e gli occhiali nostri non vanno più bene non ci basta neanche fare così per pulirli dobbiamo cambiarli e magari fare una visita oculistica e come si fa mentre stiamo andando a 230 all'ora ci tiriamo indietro ci nascondiamo dietro ai nostri ruoli io sono insegnante non sono mica uno psicologo io sono un politico non sono mica un utopista non sono mica un filosofo e intanto questa capacità nuova di autosoppressione che l'umanità si è data attraverso il suo progresso ecco mette in discussione la sesta ultima parola su cui io chiudo subito che è una duplice parola futuro e progresso noi viviamo da qualche decennio a questa parte la crisi del futuro le angosce del nostro tempo il disagio della civiltà del nostro tempo avrebbe detto ancora oggi Sigmund Freud deriva dal fatto che non c'è più futuro io quando ero ragazzo davo per scontato i miei genitori davano per scontato che il futuro dei figli sarebbe stato migliore di quello dei padri era scontato ma non era neanche una teoria era un sentimento era vissuto oggi non è più così e non è più così non solo per i dati economici sociali e politici ma proprio come sentimento il futuro non c'è come come realtà l'immaginario riguarda il presente c'è una presentificazione del tempo e questo toglie vita alla vita e che cosa garantiva il futuro un'idea di progresso che dall'illuminismo adesso facciamo i filosofi dal settecento in poi era inteso come garantito inevitabile il progresso della scienza avrebbe garantito il progresso della tecnologia il progresso della tecnologia avrebbe garantito il progresso della società il progresso della società il progresso dell'uguaglianza del benessere questo della democrazia ma no visto che il progresso della scienza provoca la crisi climatica la capacità di suicidio dell'umanità e il pallino è ancora nelle nostre mani siamo diventati responsabili il futuro non è più garantito ma questo non vuol dire che il futuro è impossibile dal futuro garantito dobbiamo educarci a un futuro possibile che è figlio delle nostre scelte non garantito dalla presunzione di un miglioramento automatico prodotto dalle innovazioni tecnologiche no la tecnologia non ci porta automaticamente ci vuole una cultura e questa cultura non c'è la tecnologia si sviluppa rapidamente ma non altrettanto rapidamente si sviluppa la nostra cultura la nostra coscienza dei problemi la nostra capacità di cambiare educare vuole dire cambiare formare vuol dire cambiare metamorfosi cambiare cambiare noi stessi compito difficile compito improbabile una battuta veloce si parla tanto di riforma della scuola tutte queste riforme della scuola non colgono questi problemi nessuno semmai senza neanche pensarci guardate si cerca di fare diventare la scuola dell'infanzia io la chiamavo asilo e la scuola primaria io la chiamavo elementare sempre più come i licei o le università ma no sono i licei e le università che devono ispirarsi alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare perché lì i soggetti sono per natura trasdisciplinari i bambini mettono insieme ciò che per gli adulti troppo istruiti non viene più messo insieme e cioè rendo omaggio al mio amico maestro premiato oggi Edgar Morin che citando Michel de Montaigne 500 anni fa dice noi abbiamo una scuola che formi teste ben fatte non teste ben piene le informazioni semmai abbiamo bisogno di uscire con l'ombrello perché ci arrivano da tutte le parti abbiamo bisogno di teste ben fatti capaci di interpretare ciò che ci accade un minuto solo voglio rendere omaggio a Napoli per come avrei concluso la mia relazione che invece regalo a Rachele rendendo omaggio a un grande napoletano quindi leggo io non leggo mai quando parlo ma leggo 4-5 frasi di questo grande napoletano che nel 1964 pensate cosa dopo vi dico che leggo scriveva queste parole Ernesto De Martino questo grande napoletano il problema centrale del mondo di oggi appare la formazione di un nuovo etos culturale non più adeguato al campanile di Marcellinara Marcellinara è un piccolo comune del Catanzarese ma come dire adeguato all'intero pianeta Terra che ormai gli astronauti contemplano dalle solitudini cosmiche e che sta di fatto diventando per quanto attraverso contraddizioni e resistenze la nostra patria culturale fondamentalmente unitaria con tutta la ricchezza delle sue memorie e prospettive nella misura in cui questo etos si renderà realmente operante e unificante raccogliendo in una consapevole ecumenicità di valori comuni la originaria dispersione delle genti e delle culture il mondo che non deve finire cioè il nuovo mondo la possibilità di sopravvivenza dell'umanità uscirà vittorioso dalla ricorrente tentazione del mondo che può finire il nostro mondo attuale e la fine di un mondo non significherà la fine del mondo ma semplicemente il mondo di domani e il mondo di domani aggiungo io è come un vaso nuovo che noi dobbiamo costruire il problema è che in questa unità molteplice che è ormai la comunità di destino planetaria ognuno ha in mano solo un coccio di questo vaso da ricostruire e dico che voi della fondazione Focus qui a Napoli nei quartieri spagnoli vi state prendendo cura state mettendo a disposizione di tutti del pianeta direi non solo della campagna e di Napoli un coccio prezioso e indispensabile perché possa davvero emergere in modo improbabile il mondo di domani a questo è consegnata l'educazione grazie 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 a tutti